Il sogno era più nitido di un ricordo. Sentivo il rumore di zocco riscalpitare di scudi che si spezzavano il clangore delle spade. Io ponevo il mio erede sul trono di spade e i draghi ruggivano all'unisono. La questione della tua successione va trattata con urgenza. Chi altri ne avrebbe diritto? Il primogenito maschio. Rhaenyra. Nessuna regina è salita sul trono di spade. Il re ha un erede, Daemon Targaryen. Non potrò mai essere costretto a scegliere tra mio fratello e mia figlia. L'ascesa di Rhaenyra creerà dissenso. Le spade verranno sguainate. Tu sei il re. È tuo dovere avere un'altra moglie. Ho deciso di nominare un nuovo erede. Sono io. La guerra è alle porte. Il re Ame mi accetterà mai come sua regina. Una donna non siederà mai sul trono di spade. L'ordine delle cose è questo. Da regina cambierò le regole. La vostra famiglia possiede i draghi. Sono un potere che nessuno dovrebbe sottovalutare. Se Rhaenyra salirà al potere, eliminerà chiunque ostacoli la sua ascesa. Siederò io sul trono di spade. Lei proverà a impedirlo. I nostri cuori battono insieme. Non lo hanno mai fatto. Hai mai pensato come sarebbe se salissi sul trono di spade? Dov'è il dovere? Dov'è il sacrificio? Adesso ti vedono per quella che sei. Dov'è il dovere? Dov'è il dovere? società.